Giuseppe Zeno e Margaret May genitori, è nata la prima figlia Giuseppe Zeno è diventato papà. Lattore Giuseppe Zeno e la moglie Margaret May sono diventati genitori. È nata ieri la primogenita della coppia e a dare la notizia sui social sono stati proprio i neo genitori. La neo mamma ha pubblicato una dolcissima foto su Instagram che la ritrae insieme alla piccola Angelica. La stessa foto è stata poi condivisa da neo papà che, attraverso una citazione di Shakespeare, ha mostrato la sua gioia. Giuseppe e Margaret ad agosto avevano già acquistato delle scarpe che per la loro primogenita, sinonimo di un forte desiderio di averla tra le loro braccia. La bella attrice aveva anche condiviso una sua foto su Instagram dove si mostrava con un elegante abito nero il giorno del suo compleanno. . In questa foto la pancia era già evidente ma la stessa Margaret l'aveva messo in risalto, accompagnando la foto con una divastalia che esplicitava la gioia di passare un compleanno diverso dal solito. . . La dolce dedica di mamma e papà alla piccola Angelica. . La foto che ha pubblicato Margaret Made su Instagram è accompagnata dalle seguenti parole, La mia vita incontra l'amore incondizionato per mia figlia Angelica Zeno. . Benvenuta al mondo amore mio. . . Queste parole sono precedute dalla data di nascita, 8 novembre 2017, e hanno un enorme significato, uno dei grandi amori della mia vita è mia figlia. . . Anche Giuseppe Zeno ha pubblicato la stessa foto su Instagram ma alla piccola ha dedicato una citazione di Shakespeare, Il mio cuore aveva mai amato? Occhi rinnegatelo, perché non ha mai conosciuto la bellezza fino ad ora. . La famiglia Zeno-Maid si è dunque allargata . I due attori saranno pronti a farsi stravolgere la vita?. . La storia d'amore tra Giuseppe Zeno e Margaret Made. . . . Giuseppe Zeno e Margaret Maid è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Zeno è rimasto colpito dalla bella Maid quando la vista recitare in Baria, uscito nel lontano 2009. Dopo essersi incontrati e attraversato la fase del fidanzamento, si sono sposati. La coppia, nonostante sia formata da persone dello spettacolo, manchiene una certa riservatezza sulla vita privata ma non ha resistito a condividere con i propri fan la gioia della nascita della piccola Angelica. Ciao